No, vabbè, credo che tu vuoi essere... Non è per niente timido lui, eh? Pronto? Pronto? Chi sei? Da dove chiami? Sono Zumbudu, telefono da Mombada. Ciao Zumbudu! Ciao, volevo farti innanzitutto tanti complimenti per la trasmissione, che è veramente dignitosa e molto bella. Grazie. Senti Zumbudu, come mai non sei a scuola a quest'ora? A scuola? Ah beh, perché sono stato morso da un boa. Ah, ti fa molto male? Eh sì, purtroppo, molto. Ah, non è una di quelle solite scuola di non andare a scuola, eh? No, 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 assolutamente no. Ah, bravo. Senti Zumbudu, quanti anni hai? Sette. Ah, che bella voce grossa che hai, eh? Eh, lo so, anche mia mamma. Sei bravo? Sì, bravo. Senti, l'hai seguito bene il nostro gioco? No. Come no? Non sai rispondermi allora? Ti do le botte, eh? No, 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 rispondo, rispondo, ci provo. Ah, beh, allora senti, mi sai dire che tipo di liana è questa? Dai, con il nostro zede che ce la fa vedere. Vediamo un po'. Che tipo di liana è? Liana Orfei. Ma bravo, bravo Zumbudu. Facciamo un bel applauso. Bravo, bravo.